Ben trovati e bentrovate dal vostro Andrea Cartotto. Io e Paolo Mugnaini, ideatore e sviluppatore di PanQuiz, l'applicazione interamente made in Italy per la creazione di quiz verifiche, vi diamo un grande, grandissimo annuncio. Arriva in PanQuiz la possibilità di utilizzare l'intelligenza artificiale. E cosa vorrà dire Andrea, mi chiederete? Beh, ora Mr. PanQuiz, l'aiutante, l'intelligenza artificiale di PanQuiz, dato un argomento e un inquadramento generale sulla quantità di domande e quant'altro, ci fornirà un questionario pronto, chiaramente da revisionare e su cui agire giusto, ecco sulle opzioni di personalizzazione per somministrare agevolmente una verifica ai nostri ragazzi. Ebbene, giusto Paolo, ieri sulle diverse communities ha fornito un primo annuncio testuale, ma ecco il nuovo videocorso ufficiale in cui insieme ve lo annunciamo. Potete da ora provarla e vi mostro come, mostro come provare la nuova funzionalità. Qui siamo all'interno ovviamente del nostro cruscotto principale di PanQuiz. Io vado a cliccare su Crea nuovo, o sul più, lo sapete. Seleziono la modalità questionario, che è la modalità più verifica. Come sapete il LiveQuiz è quello che ci consente invece l'interazione in classe con i dispositivi. Ebbene, guardate ora. Adesso io intanto clicco, perché voglio impostare il titolo del questionario. Lo immagino per tecnologia, scuola secondaria di primo grado, e allora vado a inserire fonti di energia rinnovabile. Clicco su ok, vado sul più, ed ecco la novità. Oltre a scrivere le domande, ad importarle, e trovate tutto qui sul mio canale, sulla playlist ufficiale di PanQuiz, ora c'è chiedi a mister PanQuiz. Osservate. Un plauso a Paolo anche per la consueta chiarezza nella grafica e nel dialogo in italiano con l'utente, con l'utilizzatore docente, o perché no alunno. Osservate. Eccoci qua. Cosa andiamo a fare? Clicchiamo sulle tendine, quindi noi vogliamo, per brevità, selezionerò un numero di domande, come dire, più ristretto, ma se notate arriviamo sino a 10. Il livello di difficoltà, facili, medi o difficili, ognuna con tre risposte alternative, con la spiegazione della risposta esatta in lingua italiana, ma guardate la tendina, ecco la gamma di possibilità offerta. Su che argomento? Quindi andiamo un pochino a scegliere. Bene, fonti di energia rinnovabile. Vi mostro che avremo la possibilità di scegliere alcuni tags, quindi le etichette possibili che riguardino l'argomento della nostra verifica. Clicco la prima. Clicco su vai e ora guardate, c'è anche un piccolo intermezzo. Allora, la chiama Paolo magia, nella realtà l'intelligenza artificiale è una complessa e affascinante funzionalità implementata, per cui con un processo di, si chiama machine learning, grazie ad informazioni fornite a monte in principio, ma anche continuamente in apprendimento, succede questo. Guardate, con tre domande il processo è estremamente rapido, altrimenti se il processo è meno rapido si gioca a tris con Mr. Panquiz. Dico davvero, c'è quel quadrato su cui cliccare, o X o cerchio. Vi dico che ho provato e un paio di volte ho perso. Ecco qui le domande. Qual è una fonte di energia rinnovabile? Petrolio, carbone, solare, il feedback. Vado a cliccare su seleziona tutte, le accetto. Notare bene, e questo lo dico volentieri, magari più scettici, che come in ogni impiego dell'intelligenza artificiale la revisione dell'uomo è naturalmente necessaria. Vado a cliccare su usa tre domande e torniamo al classico impianto del questionario con Panquiz. Cosa dobbiamo fare noi? Agire sull'ingranaggio naturalmente in alto per le impostazioni di carattere generale del questionario? Se avete dubbi consultate i miei videocorsi qui presenti nella playlist, oppure come in questo caso andiamo su modifica, quindi le opzioni della singola domanda. Abbiamo le consuete due linguette generale e opzioni. Andando in opzioni, contrassegniamo l'obbligatorietà della risposta, la casualità, l'ordine casuale delle risposte, e andiamo a analizzare l'inserimento del feedback e del punteggio. Se esatta, molto bene, un punto. Se errata, andiamo a, in questo caso, dire che andremo a assegnare punteggio zero, potremo prevedere un feedback, le opzioni avanzate in realtà valgono solo se noi prevediamo un punteggio minimo che dovrà essere conseguito rispondendo a quella domanda. È l'opzione che useremo, mi sento di dire, di meno. Clicco su salva, rifinisco sempre mediante, se non l'ho già fatto prima, il pulsante impostazioni in alto a destra, non mi resta alla fine che cliccare sulla freccia ricurva assegna, stesso comando assegna che trovo nella dashboard principale di Panquiz, e il gioco è fatto. Insomma, mi ha fatto piacere fare la conoscenza di Mr. Panquiz e a voi la prova su strada. Usatelo e fate sapere a me e a Paolo come vi trovate. Un grande alleato che ho avuto il piacere di citare, e parlo ovviamente di Panquiz, anche in recenti webinar sulle apps segnalate all'interno delle adozioni dei consigli didattici per Piano Scuola 4.0. Dal vostro Andrea Cartotto ancora un saluto e viva Mr. Panquiz!